ciao ragazzi benvenuti finalmente in questo nuovissimo video oggi come potete vedere sono giù al garage con mantis per mostrarvi un qualcosina di veramente veramente figo sono lieto di annunciarvi una splendida collaborazione con materia per chi non dovesse conoscerlo è appunto il progetto di un ragazzo mirko sapio che saluto e ringrazio per tutto che produce pezzi per moto detto così è veramente bruttissimo però vi spiego stiamo parlando di accessori di design per le nostre moto accessori veramente veramente belli realizzati con una qualità estremamente buona e vi posso assicurare che oltre a essere buoni sono anche veramente veramente belli purtroppo questi pezzi non sono disponibili per tutte le moto ma fortunatamente mantis rientra tra quelle quindi di cosa stiamo parlando oggi vi mostrerò dei due prototipi che mi sono stati forniti appunto per la mia moto e stiamo parlando di lui un fantastico cupolino prodotto e disegnato interamente da lui come potete vedere veramente spettacolare vi farò altre riprese più dettagliate ragazzi questo è solo un prototipo e vi posso assicurare che è fatto da dio tutto realizzato nei minimi dettagli tutto pensato tutto studiato perfettamente per le nostre moto questa invece è la cover per la strumentazione della mia yamaha mt 09 ragazzi tutto perfetto tutto molto molto bello vi farò delle riprese per farvelo vedere meglio però adesso li andiamo a montare e ve li faccio vedere sulla moto ragazzi ci tengo appunto a chiarire la cosa che questi sono dei prototipi realizzati in materiali prototipali quindi non è la versione definitiva la versione definitiva ve la farò vedere sia su instagram che su altri video che rivedranno in futuro e vi posso assicurare che sono una bomba basta chiacchiere montiamoli sulla moto e ci vediamo dopo ciao perfetto ragazzi come potete vedere questa è la situazione attuale di mantis durerà ancora per poco così perché appunto non vedo l'ora arrivino i prodotti finiti e di poterci mettere le mani sopra ho fatto questo brevissimo video semplicemente per rendervi partecipe delle modifiche che appunto sto facendo su mantis e dei progressi che sto facendo grazie a voi al mio canale youtube e al mio profilo instagram ragazzi appunto per questo stiamo crescendo abbastanza stiamo diventando sempre più grandi e io vi ringrazio tantissimo di questo per quelli di voi che sono molto più assidui sul canale sul mio profilo instagram vi chiedo di continuare a condividere i video le mie storie i miei post perché grazie a voi stiamo arrivando a molte più persone detto questo vi ringrazio ancora tantissimo per il supporto come al solito se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un bel pollicione in su qua sotto commentate condividete iscrivetevi al canale seguitemi su instagram e niente noi ci rivediamo come al solito in un prossimo video grazie ragazzi ciao 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 ciao